Diciamo che negli ultimi anni assistiamo a un aumento esponenziale di chi frequenta social, di chi guarda su internet, quindi Facebook, Instagram e quant'altro. E quindi la comunicazione ormai passa per grossa parte con sistemi di questo tipo, quindi è importante che anche noi ci adeguiamo e che proponiamo, lanciamo i messaggi che ci stanno più a cuore, utilizzando anche questi strumenti, quindi la tutela dell'ambiente, a di là delle bellezze, anche il rispetto del territorio, tutte quelle parti della vita di vivere in montagna, che sono per noi molto importanti, vanno in qualche modo comunicate e lo si deve sapere fare. Io penso che la fondazione abbia giocato un ruolo importantissimo nella visibilità delle Dolomiti e molto c'è ancora da fare, ma la strada che abbiamo tutti insieme preso è quella giusta.